Anche per l'anno 2014, intensa è stata l'attività di contrasto alla criminalità ambientale ed agroalimentare del personale del Corpo Forestale dello Stato operante in provincia di Pistoia. Molteplici i settori di intervento, dal traffico illecito di cuccioli di cane che ha portato alla notifica di un elevato numero di sanzioni amministrative per un totale di oltre 35.000 euro, all'attività di vigilanza finalizzata alla tutela della fauna omeoterma, con particolare attenzione al fenomeno del bracconaggio. Di particolare importanza i controlli effettuati nell'area protetta del padule di Fucecchio, sottoposta ad una notevole pressione venatoria. Nell'ambito del settore della tutela del territorio, sono state denunciate 10 persone. I controlli sul rispetto della normativa sui rifiuti e sulla tutela delle acque dall'inquinamento hanno portato a 11 sequestri e 32 sanzioni amministrative per un totale di oltre 20.000 euro. Grande attenzione alla repressione degli illeciti nel settore agroalimentare, con l'attuazione di controlli anche su strada inerenti alla normativa sulle denominazioni di origine protetta. Le violazioni riscontrate hanno riguardato varie fattispecie, quali uso improprio di denominazioni di vendita, evocative di marchio IGP, per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva, la messa in vendita di prodotti con etichettatura non conforme, che ha prodotto sanzioni amministrative per un totale di oltre 15.000 euro. Di particolare rilievo poi l'attività di educazione ambientale svoltasi presso i plessi scolastici della provincia e nelle riserve naturali dello Stato di Abetone, Pian di Novello, Campolino ed Acquerino, a cura del personale del Corpo Forestale dello Stato, in servizio presso l'Ufficio Territoriale Biodiversità di Pistoia. Attività quest'ultima che ha consentito ad un bacino di utenza di oltre 2.500 persone, studenti, associazioni, privati, di visitare, accompagnati dal personale forestale, le aree protette statali. Numerosi infine gli interventi per chiamate al numero di emergenza ambientale 1515, circa 250 sull'intero territorio provinciale.